L'ingegnere Roberto Prever è partita la demolizione di quella che era la vasca di ingegneria navale in disuso purtroppo da oltre dieci anni, verrà fatto un archivio. Perché non demolire questo che è stata e che potrebbe essere ancora oggi un'eccellenza per l'Università degli Studi di Trieste? Intanto la vasca è l'unico laboratorio della Facoltà di Ingegneria Navale ed è fondamentale sia per la didattica che per l'attività di ricerca scientifica. Purtroppo entrambe queste cose non sono state considerate prioritarie dal corpo docente e anche dai rettori. La vasca avrebbe dovuto continuare ad esistere perché è un laboratorio fondamentale per la formazione degli ingegneri navali e anche per la ricerca che dovrebbe essere portata avanti da studenti e ricercatori all'interno dell'Università. Grazie 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 a tutti